dopo le dichiarazioni di melissa satta sull'ex daniele interrante è arrivata la replica attraverso il portale di lingerlex tronista ha commentato le parole dell'ex velina belve da francesca fagnani la satta ha rivelato di essersi sentita l'uomo della coppia poiché lui prendeva poche decisioni non ero abbastanza sveglia per dire se ero nel giro giusto o meno ero giovane e ingenua non c'erano strategie tra me e il mio ex dell'epoca ho detto che ero io il maschio e che portavo i pantaloni dissi che ero io l'uomo perché ho un istinto maschile mi piace essere l'uomo di casa lui mi considera ingrata non penso di esserlo altre persone mi hanno aiutato ho avuto la fortuna di essere scelta da mediaset da antonio ricci li capì di aver avuto una botta di fortuna non è dunque mancata una risposta da parte dell'ex non ho visto tutta l'intervista a belve ma qualche pezzo siamo stati insieme qualche anno e io l'ho aiutata all'inizio se mi pento di averla portata in questo ambiente se dovessimo pensare al merito ad oggi io a melissa satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo se lei deve il suo successo a me non mi piace prendermi meriti e vantarmi però sicuramente sì comunque le detti dell'ingrata perché in un'intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore se era lei l'uomo di casa io ho sempre portato i pantaloni i suoi si fidarono anche nel farla venire a milano dove ho trovato casa ho comprato una macchina interrante sembra che non abbia preso bene le dichiarazioni di melissa l'ex tronista ha messo in dubbio anche i meriti e la vita professionale della satta a cui non farebbe fare nemmeno le previsioni del tempo daniele non sopporta il fatto di essere l'unico ex di cui la satta non parla bene per questo ritiene di aver subito delle mancanze di rispetto sempre a di linger interrante ha detto la propria sulla famiglia tradizionale che definisce un abominio linguistico cosa penso della famiglia tradizionale oddio io credo che sia un abominio linguistico non esiste una famiglia tradizionale anche perché poi il tradizionale è diverso per tutti e ognuno intende questo a modo suo per me la famiglia sono due persone di qualsiasi genere che si amano si vogliono bene convivono e condividono la vita e un percorso comune se c'è amore potrebbero avere dei figli anche se fossero due uomini o due donne io permetterei assolutamente l'adozione per tutte le coppie